Il circolo degli amici è completamente indipendente da qualsiasi religione, ma anche da qualsiasi altro tipo di appartenenza. Quindi non devo iscrivermi, non devo pagare nulla, tutto ciò che si riceve qui nel circolo degli amici è praticamente gratuito. Bruno Gröning ha dato alle persone la possibilità di rimettersi in collegamento con Dio. E di questo parlano le persone. Molti raccontano di avere ora di nuovo una fede viva in Dio e solo ora cominciano a capire veramente quello che hanno imparato nella loro confessione, nella loro chiesa o altrove. Ci sono molte strade che portano a Roma e su questa terra ci sono molte, molte possibilità. Bruno Gröning ci mostra una delle vie che portano a Dio. Fino a che punto si segue questo percorso è ovviamente a discrezione di ogni individuo. Ho avuto un'esperienza interessante. In India conobbi un uomo anziano, un uomo molto saggio, che conosceva benissimo la Bhagavad Gita, il Corano, la Bibbia e aveva anche un maestro. Un giorno, sapendo che conosceva così tante cose gli chiesi, perché si impegna così tanto nel circolo degli amici di Bruno Gröning qui in India. Lei conosce il Corano, conosce la Bibbia, conosce la Bhagavad Gita. Sta vicino all'Himalaya, avete tanti maestri e guru. Perché Bruno Gröning? Ed egli spiegò il motivo. Qui da Bruno Gröning funziona tutto più velocemente. La cosa interessante è che alcuni anni fa divenne cieco. Era un ingegnere di successo e improvvisamente perse la vista. Con il suo sapere si era messo in movimento per capire come riacquistarla. La medicina allopatica e le varie cose che aveva tentato, tutte le vie che aveva intrapreso davano una sola risposta. Non avrebbe potuto riaverla. Poi trovò il circolo degli amici di Bruno Gröning. E oggi è guida di comunità, vede i suoi amici, può leggere, è felice e soddisfatto. Da questo punto di partenza posso naturalmente comprendere le sue affermazioni. Bruno Gröning diceva, non vendo la salute. E il circolo degli amici di Bruno Gröning si comporta secondo questo motto. Tutto ciò che ricevete nel circolo è praticamente gratuito. L'affitto dei locali, gli opuscoli informativi, i DVD. Tutto si finanzia esclusivamente tramite donazioni. Durante ogni ora di comunità abbiamo una cassettina in cui ognuno può dare qualcosa. Oppure no, ognuno è libero. Quello che si dovrebbe forse aggiungere è che il lavoro nel circolo degli amici è volontario da parte di ogni individuo, il che significa che nessuno riceve denaro per la sua attività. Ci sono tutti amici che hanno sperimentato loro stessi aiuto e guarigione e che spontaneamente aiutano per gratitudine perché questo cerchio di amici continui a crescere e a diffondersi su tutta la terra. È un bisogno degli amici quello di aiutare. Come divento amico di Bruno Gröning? La domanda sorge quando si è ascoltato tutto ciò. In realtà è molto facile. Abbiamo una pagina web in 30 lingue e lì si trova un formulario di contatto. Quando si inserisce il proprio indirizzo si viene contattati dalla guida di comunità e invitati ad un incontro nella zona più vicina alla propria abitazione. Non importa dove siete su questa terra, se compilate questo modulo di contatto, che sia in Groenlandia o in Australia o a Pechino, sarete invitati e riceverete informazioni su come potete anche voi sperimentare aiuto e guarigione su questa via. E poi, se vuoi, puoi anche venire regolarmente, così sei un amico di Bruno Gröning, così, semplicemente. Ohne unterschrift. Grazie a tutti.